Salve a tutti ragazzi sono iPhone Amatore e come al solito ecco e come al solito sto qui davanti alla telecamera Sto facendo questo video in vacanza e sto da un mio amico ecco qui c'è anche un altro mio amico quello che ha fatto la custom app con me così almeno finalmente lo vedete Eccolo lì non so se li vedete bene uno gioca al Nintendo DS ha 19 anni e fallisce ecco e non so cosa state vedendo eh ragazzi aspettate Ok mi metto anche lo zoom vabbè comunque voglio dire che mi sto divertendo dai Non vaffanculo ecco mi piace il pisello questo video non lo metterò mai puoi dire che sono un fenomeno gioca a pokemon Allora lui è un fenomeno gioca a pokemon io sono io sembro un drogato con sta faccia ma vabbè Gelo raggio potremmo pure gelarlo si gelo raggio 19 anni lui usa gelo raggio ragazzi mi sembra giusto no Ecco le otte d'acciaio ma vabbè un saluto a tutti spero che domani farò un altro vlog ora non so quale sono penso che sia l'una La madonna te che rotti che fai disturba disturba la mia cosa la mia quiete Vabbè un saluto a tutti da iPhone amatore ciao Uh oh